Musica Buona domenica e benvenuta al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 7 novembre. Sbarco di mille migranti a Palermo, fra loro anche 10 cadaveri, altri migranti sbarcati nei porti di Augusta, Catania e Pozzallo. Sbarcati a Palermo, oltre mille migranti di origine subsahariana, salvati nei giorni scorsi in mare in diverse operazioni. Tra loro purtroppo anche 10 cadaveri. I migranti sono in prevalenza uomini, con 156 donne e 129 minori. Di questi alcuni sono non accompagnati, ma il calcolo definitivo si potrà fare soltanto alla fine delle operazioni di identificazione. La Prefettura ha convocato il tavolo tecnico per organizzare l'accoglienza. I volontari della Croce Rossa e della Caritas hanno organizzati turni per essere operativi fin dall'alba di oggi. 40 quelli della Croce Rossa divisi in 5 turni con 6 ambulanze, circa 20 quelli della Caritas. Passa accante volontari anche gli uomini della protezione civile comunale e regionale, i medici dell'ASP con i mediatori culturali e le forze dell'ordine. A Palermo e provincia rimarranno soltanto i minori non accompagnati e i migranti bisognosi di cure. Il resto sarà trasferito con i pullman in altre regioni. La Procura ha disposto l'autopsia sui 10 cadaveri. Altri 712 oggi saranno condotti ad Augusta dalla nave militare spagnola Navarra e dalla nave Libra della Marina Militare Italiana. Ieri la Bourbon Argos di Medici Senza Frontiere era approdata nel porto di Catania con 867 profughi, tra cui 119 donne e 8 bambini, 4 dei quali neonati, e 300 a Pozzallo con la nave Osa Estia di Save the Children. Una vita spezzata a soli 16 anni. Lunedì i funerali di Giuseppe Davide Polizzi, travolto e ucciso da un treno a Ficarazzi. Commozione, incredulità e dolore. L'intera comunità di Ficarazzi si stringe intorno alla famiglia di Giuseppe Davide Polizzi, appena a 16 anni. Morto sabato scorso, travolto e ucciso da un treno in transito sui binari tra la stazione ferroviaria di Ficarazzi e quella di Bageria. Oggi pomeriggio saranno celebrati i suoi funerali nella chiesa madre di Cerda, paese di cui era originario. Ascoltava musica con le cuffiette, ignaro della drammatica sorte che gli sarebbe toccata, un'imprudenza mista a distrazione. Gli inquirenti della Polizia Ferroviaria di Palermo hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, che ha bloccato per ore sabato pomeriggio la linea Palermo-Messina. Giuseppe sarebbe uscito da scuola dopo le ore 13, per poi andare da Corso Vittorio Emanuele in via Lincoln, dove c'è la fermata dell'autobus extraurbano diretto a Ficarazzi. Aveva l'abbonamento annuale, utilizzava sempre il bus per tornare a casa, ma sabato, probabilmente stanco di aspettare, avrebbe deciso di andare in stazione centrale per prendere il treno. Per pochi minuti non sarebbe riuscito a salire sul regionale che ferma a Ficarazzi, avrebbe dovuto attendere oltre mezz'ora per il successivo e dunque avrebbe deciso di salire sul treno che fermava a Bageria. Una volta sceso in stazione avrebbe dovuto camminare per oltre 5 km lungo la strada asfaltata, mentre costeggiando la ferrovia avrebbe accorciato il tragitto di un chilometro. Si sarebbe dunque incamminato lungo la ferrovia. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, il ragazzo potrebbe aver sentito il macchinista suonare le trombe mentre parlava al telefono, ma non si sarebbe preoccupato, sicuro che il convoio sarebbe passato nel binario più lontano, poi la tragedia. Vicinanza alla famiglia, espresso il sindaco di Cerda, Giuseppe Ognibene, tanti anche messaggi di vicinanza ai genitori che sono stati colpiti da un dolore incolmabile. Nuove informazioni da un collaboratore di giustizia nella mafia grigentina. Si tratta di Vito Bucceri, boss di Menfi. Ha ammesso di fare parte di Cosa Nostra per liberarsi di un peso e per cambiare vita. Vito Bucceri, di 44 anni, menfitano, bracciante agricolo, ha già riempito centinaia di pagine di verbali che la DDA ha depositato nell'ambito del processo Icaro, ma al momento gran parte sono piene di omissis. Secondo gli inquirenti attorno a Bucceri, detto Buccituni, al vertice della famiglia di Menfi, si sarebbe messo in atto il tentativo di ricomporre l'organizzazione criminale, tra i nomi che fanno parte dei verbali nelle parti senza omissis c'è un Leo Sutera di Sambuca, al quale Bucceri riferisce di essere stato presentato nel 2005. Sutera, detto il professore, era ritenuto il capo della provincia di Agrigento tra il 2010 e il 2012. Il business del videopoker è invece al centro delle rivelazioni che prendono in causa Pietro Campo, l'attività che i due volevano mettere in piedi era emersa anche durante le indagini Opunzia. Con Campo, Pietro, abbiamo parlato approfonditamente della questione delle macchinette di Icarabucceri e Campo mi disse che mi avrebbe dato una percentuale sull'incasso dei videopoker, cioè io gli avrei dato tutto quello che guadagnavo e lui me ne lasciava una parte. Le operazioni che hanno preceduto questo nuovo pentimento sono state condotte dai carabinieri di Sciacca, coordinati dalla Procura di Palermo, che hanno arrestato otto persone accusate di associazione mafiosa. Sono, oltre a Bucceri, Pellegrino Scirica, 61 anni di Menfi, medico di base e uomo di fiducia di Leo Sutera, Tommaso Gulotta di 51 anni di Menfi, Matteo Mistretta di 30 anni, Vito Riggio 47, Giuseppe Alesi di 46, Cosimo Alesi di 51, Domenico Friscia di 53, già condannato per mafia. Avrebbero provato a ricostituire il clan dopo i colpi inferti dalle forze dell'ordine, tenendo i contatti con i massimi esponenti di Cosa Nostra in provincia di Agrigento, ad applicare le misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta iniziata nel maggio del 2014 e coordinata dal procuratore capo di Palermo Francesco Lovoi, dal procuratore aggiunto Maurizio Scadie e dai sostituti Alessio Sinatra e Claudio Camilleri. Martedì 8 novembre. A Palermo la Polizia di Stato ha fermato tre nigeriani per induzione alla prostituzione e sequestro di persone. Sequestro di persone, induzione alla prostituzione ai danni di una giovane connazionale. La Polizia di Stato ha fermato tre nigeriani, Juliet Matthews, Precious Matthews, Daniel e Guavon. Gli agenti della squadra mobile di Palermo, diretta da Rodolfo Ruperti, con l'ausilio di personale della squadra mobile di Trapani e del commissariato Castelvetrano, hanno posto fine all'incubo vissuto da una giovane nigeriana, fuggita dalla miseria del suo paese e finita nelle mani di una spietata organizzazione criminale che ha tentato di costringerla a prostituirsi, minacciandola con reti voodoo e segregandola in una stanza per più di 48 ore. Durante la sua prigionia, la donna attraverso un cellulare è riuscita a contattare l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che a sua volta si è messa immediatamente in contatto con gli uffici e la squadra mobile di Palermo. I poliziotti, con un'azione coordinata tra le due questure, sono riusciti ad individuare il luogo di prigionia della ragazza alla periferia di Castelvetrano. In forza hanno fatto irruzione nell'appartamento, traendola in salvo e fermando i tre aguzzini, due donne ed un uomo. La vittima, una volta soccorsa, ha raccontato agli agenti particolari della sua odissea per raggiungere il nostro paese, iniziata circa tre mesi fa e scandita da stenti, privazioni, viaggi estenuanti e minacce. Trasferimento per motivi di sicurezza. Il PM Nino Di Matteo rifiuta la proposta del CSM di lasciare Palermo. Accettare un trasferimento con una procedura straordinaria connessa solo a ragioni di sicurezza costituirebbe, a mio avviso, un segnale di arresa personale ed istituzionale che non intendo dare. Il PM Nino Di Matteo, con queste parole, ha rifiutato la proposta del CSM di lasciare Palermo per motivi di sicurezza. Tanti gli allarmi, l'ultimo poco più di un mese fa che ha indotto il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, a scrivere al CSM che ha riaperto la pratica per il trasferimento d'ufficio per motivi di sicurezza già avviato un anno fa. Convocato a Palazzo dei Marascialli, però il magistrato ha deciso di non lasciare Palermo, rifiutando la proposta dei consiglieri di andare alla Direzione Nazionale Antimafia, in carico a cui Di Matteo aspira da qualche tempo e per il quale ha già fatto due domande. Il Movimento 5 Stelle Sicilia condivide a pieno le motivazioni che hanno indotto Di Matteo a rifiutare il trasferimento ed in una nota sottolinea che in ogni caso lo Stato non deve pensare di essersi lavato la coscienza con la proposta avanzata, ma deve attivarsi immediatamente per assicurare al magistrato le migliori condizioni di lavoro e il massimo grado di sicurezza possibili. 8 progetti per contrastare la dispersione scolastica a Palermo, 23 scuole interessate e oltre 6.500 studenti coinvolti prende il via il bando Educazione dei Giovani promosso dalla Fondazione con il Sud. 8 progetti cofinanziati dalla Fondazione con il Sud con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica a Palermo per un totale di 23 scuole interessate in 17 quartieri diversi, 6.500 studenti tra i 6 e i 17 anni coinvolti, 520 docenti, 500 famiglie, 43 enti del terzo settore e 10 enti pubblici. Sono questi i numeri dell'attività delle reti di partenariato attivate nel capoluogo siciliano nell'ambito del bando Educazione dei Giovani promosso dalla Fondazione con il Sud. Per discutere dei risultati finora raggiunti e delle prossime sfide si è tenuta School Plus, una giornata di studi sul tema dell'inclusione scolastica organizzata da Libera Palermo e dal Cesi e presso il centro di Econale La Noce di Palermo. Dibattiti, videointerviste e tre tavoli tematici che hanno fatto il punto sui risultati raggiunti dagli 8 progetti nel campo della lotta alla dispersione scolastica, che in Italia riguarda il 17,6% dei giovani contro una media europea del 12,8%, cifra che in termini economici costa ben 70 miliardi di euro l'anno al nostro Paese, pari al 4% del PIL. A Palermo, tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, la dispersione scolastica riguarda il 25,4% degli alunni. Lavorare insieme e fare rete è l'obiettivo della nostra amministrazione, ha detto l'assessore Agnese Ciulla. Grazie alla Fondazione con il Sud, che come altre fondazioni, ha investito meglio e più velocemente delle istituzioni nel campo del sociale. Le attività della Fondazione con il Sud però non si fermano qui, mediante l'impresa sociale con i bambini, interamente partecipata dalla Fondazione, sono stati infatti pubblicati i primi due bandi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, dedicati alla prima infanzia, 0,6 anni, e all'adolescenza, 11-17 anni, per un totale di 115 milioni di euro. Le iniziative sono rivolte a organizzazioni del terzo settore e al mondo della scuola. Mercoledì 9 novembre, migranti arrestati a Palermo, sei scafisti arrivati lunedì mattina a bordo della nave Dattilo. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno individuato e sottoposto a fermo sei cittadini stranieri, tre del Gambia, due del Senegal ed un nigeriano. Erano alla guida di quattro commoni che, in condizioni di autentica fortuna, stavano effettuando la traversata del Mediterraneo, con a bordo complessivamente 482 migranti partiti dalla Libia. Gli stranieri di nazionalità subsahariana erano stati tratti in salvo dalla nave Dattilo della Guardia Costiera, che ieri mattina aveva condotto al porto di Palermo 1.049 migranti, provenienti da sei distinti salvataggi. Insieme ai migranti salvati, su uno dei gommoni intercettati, sono stati rinvenuti anche i cadaveri di altri dieci passeggeri, su cui sono ancora in corso gli esami autoptici. Fondamentale ai fini della ricostruzione di quanto accaduto in corso di traversata è stato l'apporto fornito dal personale della Guardia Costiera, che già durante le fasi di trasbordo degli stranieri aveva cristallizzato elementi utili al riconoscimento degli scafisti, documentando inoltre con video alcune frasi significative della vita di bordo. È emerso come le associazioni criminali organizzatrici dei viaggi della speranza utilizzassero le medesime modalità di approccio alla traversata. I migranti, prima di essere fatti salire a bordo dei gommoni, venivano condotti presso fatiscenti locali sulle coste libiche, con scarse razioni di cibo e sotto vigilanza armata, per essere successivamente trasferiti sui gommoni attraverso piccole imbarcazioni poco alla volta. I racconti degli stranieri hanno dato la cifra delle difficoltà e della precarietà del loro viaggio, ma anche delle condizioni di approssimazione dei natanti e dei loro conducenti, spesso reinventati i siti monieri senza alcuna preparazione in materia. È stato il caso di uno dei fermati, 17enne, postosi alla guida di uno dei sei natanti, a bordo del quale sono stati rinvenuti dieci cadaveri, tra cui quelli di tre bambine. I fermati dovranno rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il minorenne scafista dovrà rispondere anche di omicidio. Sarebbe stato aiutato e protetto dai boss, confiscato il tesoro del re dei detersivi Sigiglia, l'impero dell'imprenditore palermitano Giuseppe Sammaritano. Negli ultimi vent'anni ha costruito un impero imprenditoriale tra Palermo e Carini, nel settore della grande distribuzione. Adesso però per Giuseppe Sammaritano scatta la confisca di sei società. Secondo il Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, l'imprenditore sarebbe stato disponibile a considerare ogni offerta che veniva dall'ambiente mafioso, in un'ottica di reciproca e pacifica convivenza, non avendo mai disdegnato la protezione e l'aiuto che Cosa Nostra poteva offrire alle sue iniziative imprenditoriali. Le indagini del GICO del Nucleo di Polizia Tributaria hanno evidenziato una pesante sperequazione tra i redditi leciti e i beni aziendali. Inoltre, nel 2012, l'impero di Sammaritano era già stato sequestrato dal Collegio delle Misure di Prevenzione. Ancor prima, nel 2007, negò di avere pagato il pizzo. Imputato per favoreggiamento, patteggiò una condanna a quattro mesi, pena convertita in una multa da 5.000 euro. Fu proprio all'indomani del patteggiamento che prese il via il lavoro dei finanziari del gruppo e investigazione sulla criminalità organizzata. La ricostruzione patrimoniale ha riguardato Sammaritano, ma anche la moglie, Maria Grazia Moschera, e i figli Gaetana, Anna Lorena, Angelo e Claudia. Contro di lui anche numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, come Francesco Briguglio, ex fedelissimo del clan di San Lorenzo, che avrebbe raccontato dei rapporti tra l'imprenditore e i mafiosi del mandamento di Pagliarelli, ai quali avrebbe consentito di cambiare grosse somme di lire in euro. Lungo l'elenco dei beni confiscati, la società Fratelli San Maritano SRL, con sede a Carini, la Sicil Prodet SRL, l'Angelo San Maritano e la Max Gross, che vendono all'ingrossi e al dettaglio articoli di profumeria, casalinghi e detersivi. Ed ancora il 50% della GS Distribuzione SRL, terreni appartinico, appartamenti, case, auto di lusso e disponibilità finanziaria per 7 milioni di euro. Almaviva firmato a Roma accordo con Ex Privia, la società che si è aggiudicata, la commessa Enel, scongiurati i trasferimenti a Rende. Quello firmato con Ex Privia per il passaggio dei 297 lavoratori, un buon accordo che assicura i posti di lavoro alle condizioni quasi simili a quelle che gli operatori del call center avevano in Almaviva. In questo modo saranno azzerati i trasferimenti a Rende. L'accordo dà continuità al lavoro e riconosce i diritti di cui i lavoratori godevano, compreso l'articolo 18. Questo crea il presupposto perché l'accordo sia da esempio per i prossimi cambi di appalto nei call center. È quanto dichiarato dal segretario SLC CGL Palermo, Maurizio Rosso, dopo la firma dell'accordo al Mise per i 297 lavoratori Almaviva dell'ex commessa Enel, a esaurimento che entro il 5 dicembre saranno assunti da Ex Privia. L'accordo raggiunto dà la possibilità ai lavoratori Almaviva di scegliere il percorso futuro e di restare sul territorio palermitano. Ci sono punti qualificanti nel testo come l'istituzione di un tavolo di monitoraggio, almeno quadrimestrale, al quale sarà presente, oltre all'istituzione e ai sindacati, anche Enel. In tal senso è della novità importante il ruolo di garanzia che viene affidato al committente. Questo è il commento di Francesco Assisi, segretario Fistel CIS Palermo Trapani, ed Eliana Puma, RSU Fistel. È importante l'impegno assunto al tavolo da Ex Privia, quello cioè di investire sul territorio siciliano e avviare percorsi professionali che riguardano anche altri settori, non solo il call center. La sigla dell'accordo per il passaggio della commessa Enel da Almaviva verso Ex Privia, hanno dichiarato il sindaco, Leo Luca Orlando e l'assessore alle attività produttive, Giovanna Marano, è un atto che porta serenità tra le lavoratrici e i lavoratori interessati e mantiene Palermo quale luogo di applicazione della clausola sociale. La nostra città si conferma come una realtà in cui è consolidata la presenza e la qualità nei servizi di telecomunicazione. Giovedì 10 novembre, a Palermo operazione antimafia scaccomatto della Guardia di Finanza, tre misure cautelari personali e sequestri. Militari della Guardia di Finanza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Palermo, hanno eseguito oggi una misura cautelare degli arresti domiciliari e due misure applicative dell'obbligo di dimora emesse dal GIP Alessi e Geraci nei confronti di Fabrizio Vaccaro, ritenuto responsabile del delitto di violenza privata aggravato al metodo mafioso e di Giovanni Galatolo e Angelo Galatolo, ritenuti responsabili rispettivamente del delitto di trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di denaro di provenienza illecita. Contestualmente agli arresti sono in corso di esecuzione varie perquisizioni nella città di Palermo e provincia, nonché il sequestro preventivo dell'intero patrimonio del complesso aziendale di due ditte individuali riconducibile agli indagati coinvolti nelle condotte di reimpiego di proventi illeciti e di rapporti bancari intestata ad uno degli indagati. L'operazione Scacco Matto scaturisce dallo sviluppo di autonomi spunti investigativi emersi nel corso di specifiche e ampie indagini condotte nei confronti di esponenti e la famiglia Galatolo, attiva nel mandamento mafioso palermitano di Resuttana, oltre all'aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti, nonché alla repressione di reati di natura economico-finanziaria e di delitti contro la persona. Finanza all'ospedale civico di Palermo per acquisire cartelle cliniche di ricoveri e liste d'attesa. 50 finanzieri del nucleo di polizia tributaria si sono presentati all'ospedale civico di Palermo per acquisire cartelle cliniche di ricoveri e liste d'attesa. Hanno prelevato una sfilza di documenti negli uffici amministrativi per far luce su tutta una serie di ricoveri effettuati dal gennaio 2013 al giugno del 2016, in particolare sulle cosiddette procedure di preospedalizzazione e sui ricoveri urgenti non transitati dal pronto soccorso. Si tratta della fase preliminare di accesso all'ospedale, che serve per valutare se un paziente possa o meno sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ricoveri programmati che passano dalla lista d'attesa e vengono registrati dall'accettazione medica centralizzata in ordine cronologico. Nell'attesa del ricovero vengono eseguiti tutti gli accertamenti, ma può anche accadere che qualche paziente non risulti più idoneo all'intervento chirurgico. In questo caso però dovrebbe comunque pagare il costo degli esami. Qualche medico compiacente potrebbe avere fatto eseguire gli esami sapendo che non c'era bisogno né del ricovero né dell'intervento, senza che nessuno controllasse la procedura. Si pensa inoltre che in alcuni reparti vigesse una sorta di lista d'attesa parallela per ottenere corsie preferenziali nei ricoveri. Le ipotesi sono truffo e peculato. Al momento sul nome degli indagati c'è il massimo riservo. Stessa cosa per quanto riguarda quali siano i reparti coinvolti. L'azienda ospedaliera Arnas, civico di Cristina Benfratelli di Palermo, precisa in una nota che in relazione alle notizie riportate dagli organi di informazione circa l'attività investigativa svolta nel nosocomio, la direzione aziendale ha assicurato la più ampia collaborazione agli organi inquirenti e resta in attesa degli sviluppi delle indagini per le conseguenti determinazioni. Quattro medici a giudizio ed un prosciolto. La decisione del GUP a conclusione dell'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Nicole Di Pietro, la neonata deceduta il 12 febbraio del 2015, poco dopo la nascita nella clinica GBino di Catania. Tutti i medici a giudizio, ad eccezione del direttore sanitario Danilo Audibert, per cui è stato deciso il non luogo a procedere. Lo ha deciso il GUP nel processo per la morte di Nicole Di Pietro, la neonata deceduta il 12 febbraio del 2015, poco dopo la nascita nella clinica GBino, mentre era in corso di trasferimento in ambulanza in un ospedale di Ragusa. Accolta dunque la richiesta dei PM, che avevano chiesto il rinvio a giudizio per la ginecologa Maria Ausilia Palermo, il neonatologo Antonio Di Pasquale e l'anestesista Giovanni G. Bino, indagati per omicidio colposo e per l'ostetrica Valentina Spanò per false attestazioni. Nel procedimento si sono costituiti parte civile l'assessorato regionale alla salute, oltre ai genitori, i nonni, i bisnonni e gli zii della bambina, l'associazione dei consumatori Coda, consi anche la casa di cura. I legali dei familiari di Nicola hanno citato in giudizio la clinica, che è nel procedimento con un doppio ruolo, di parte lesa in giudizio. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 16 marzo del 2017, davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Catania. Venerdì 11 novembre, sequestro da 4 milioni di euro al re del cemento di Borgetto, sigilli ad una villa con piscina del figlio del boss Valenza. La struttura anche un'area benessere, un boschetto privato di 5.000 metri quadrati. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato a Partinico una villa con piscina, con tanto di area spa e boschetto privato, finemente arredata con arazzi, quadri e armature, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. Destinatario del provvedimento è Benedetto Valenza, già coinvolto in diversi processi di mafia, figlio di Salvatore e nipote di Erasmo, esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Borgetto, nonché vittime di Lupara Bianca il 21 aprile del 1983, in quanto uomini d'onore legati al gruppo del noto boss Gaetano Badalamenti. Fin dagli anni 90 Valenza era considerato l'imprenditore di riferimento per la produzione di calcestruzzi delle famiglie mafiose dei Vitale e dei Brusca, riuscendo così a raggiungere una posizione di monopolio grazie alla protezione di Cosa Nostra. Nonostante il suo impero aziendale fosse stato smantellato nel luglio del 2001, era riuscito a reinserirsi nel settore della produzione e fornitura di calcestruzzo e conglomerati bituminosi, intestando fittiziamente beni e società a vari prestanome, gestendo in tal modo cinque impianti di calcestruzzo ed una società di trasporto merci dislocati tra le province di Palermo e Trapani. Nel 2007 e nel 2009 è stato arrestato per il reato di intestazione fittizia di beni, nell'ambito di indagini dalle quali, tra l'altro, erano emersi il controllo esercitato dalla mafia sui appalti pubblici nella Sicilia occidentale e l'utilizzo di cemento depotenziato per la realizzazione delle opere allo scopo di incrementare i profitti. Dopo un nuovo arresto nel 2014, le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro di beni del valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro. Tra questi non era però compresa la lussuosa villa realizzata su un terreno ereditato da Valenza prima della sua illecita scalata imprenditoriale. Violenta rapina in Villa Carini. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato uno dei componenti di una vera e propria banda armata. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un'operazione anticrimine che ha portato all'arresto di una persona indagata per rapina in concorso aggravata dall'uso di armi da fuoco. L'intervento è stato effettuato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. In manette è finito Gianluca De Biasio 33enne palermitano già noto alle forze dell'ordine. Il fatto risale alla metà di giugno dello scorso anno quando due coniugi, commercianti di Carini fecero rientro presso la propria abitazione venendo aggrediti brutalmente da più persone che sotto la minaccia di armi si fecero consegnare una somma di circa 2000 euro nonché a orologi ed altri preziosi per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Le indagini suffragate dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente all'interno dell'abitazione hanno permesso di identificare il malvivente in questione come uno dei responsabili del cruento evento criminoso. L'ordinanza è stata notificata all'indagato presso il carcere di Pagliarelli dove attualmente si trova già detenuto per altra causa. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri finalizzata ad identificare i restanti complici della rapina. Rocco Darma è il nuovo componente della giunta municipale di Gela nominato dal sindaco Domenico Messinese ricopre le deleghe al turismo, eventi, sport e controllo del territorio. La figura che va a completare la giunta messinese verranno affidate le deleghe che erano libere e che consentiranno di riprendere un percorso importante avviato dall'assessore Catania che ringrazio per il grande lavoro fatto però bisogna pensare al futuro bisogna pensare al futuro, al futuro del territorio che passa anche dal turismo ed è per questo che la scelta è caduta proprio sul signor Darma che di fatto è un esperto in ambito turistico dove lavora e che quindi può dare quel contributo di una professionista per poter rilanciare non a parole ma con i fatti il turismo nel nostro territorio oltre naturalmente ad altre competenze che gli consentono di poter gestire il territorio grazie alle sue specializzazioni per quanto riguarda la viabilità la mobilità sostenibile che serve per far diventare Gela una città che guarda al futuro con interventi che sicuramente non potranno essere immediati ma che nel medio e lungo termine potremo dare quelle risposte che tanti Gelesi si aspettano. Fare sicuramente il massimo fare il massimo con la massima umiltà con la consapevolezza che la nomine dell'ingarico appena ricevuto anche se da una parte mi inorgoglisce dall'altra parte mi fa riflettere su tutte quelle problematiche che attanagliano la nostra città devo registrare che la cosa che mi ha più colpito in assoluto è la voglia di fare a volte la voglia di fare non corrisponde esattamente con dei risultati ma per arrivare ai risultati spesso e volentieri occorre tempo e quindi bisogna avere il giusto equilibrio Ed è tutto, grazie per essere stati con noi vi auguro ancora una buona domenica arrivederci grazie a tutti